Ok, benvenuti in questo nuovo video, come avete letto il titolo, è l'evento Agira and France 4 orino, in realtà è passato qualche giorno, cioè io sono andata mercoledì, siamo domenica sera, non peraltro perché dovevo studiare per le verifiche, ero pigrona, poi non ero totalmente truccata, sono stato in atto perché, ok, ho appena mangiato, non ho voglia di sistemare. Poi sto andando via al fondotinta perché sono truccata perché sono andata da mia zia e ho deciso poi di fare l'inizio di questo video, adesso metterò tutti i video e foto che ho fatto al concerto e non metterò nessuna musica di sottofondo perché poi copirebbe quella cantata da Benji Fede, quindi ho deciso di non mettere niente. Un magnifico diverso che non è stupendo e non voglio dal senso tutto questo, ma con te è diverso e cancelliamo le fasi. Così non vedo più, sale laia di questa festa, tu anni mi diverto, sì, sale la voglia, la voglia di non vederti più. Come me. Mangiate gelati, non mangiate cantanti. Questo è il mio nuovo slogan. Mangiate il magnifico cornetto, ragazzi. Perché noi siamo un magnifico cornetto. Ok, spero che quelle foto e video vi siano piaciuti. Scusate la mia voce che stona ma avevo un mal di gola tremendo e stavo cantando fortissimo e mi sto trattenendo dallo stozzare quella di fianco a me che era psicopatica. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi qua sotto quale video vorreste vedere di trucco per San Valentino, cioè se è più soft, più colorato. E al prossimo video.